Un avvocato quarantenne della provincia di Padova è stato arrestato con l'accusa di resistenza e offesi a pubblico ufficiale, lesioni personali e minacce aggravate dall'odio razziale al termine di un movimentato viaggio notturno in tram conclusosi con l'arrivo dei carabinieri ad una fermata dell'Arcella. Secondo le prime ricostruzioni, il professionista avrebbe contestato ad un nigeriano la mancata convalida del biglietto, accendendo una vivace discussione culminata con dello spray urticante spruzzato verso l'extracomunitario, che a sua volta avrebbe reagito con un pugno. A loro arrivo le forze dell'ordine sarebbero state spintonate e insultate dall'avvocato per il quale è stato disposto l'obbligo di firma quattro volte alla settimana dai carabinieri.